Che bello amici di Radio Bruno, ci sono i Bundabash! Ciao ragazzi, ciao a tutti! E quindi io sento già il sapore di una serata di cover Salentine, no? Con Alessandra Amoroso. 100% Salentina. Siamo ovviamente emozionatissimi perché il palco di Sanremo è un palco che ti mette sempre quell'anzietta bella, però ci dà tante emozioni, quindi siamo carichi ovviamente, insomma faremo il nostro meglio per far ballare. Per la prima volta ospiti poi, quindi non concorrenti. L'emozione è sempre la stessa, anche un po' di più, perché comunque cantare con Alessandra ha sempre una bella responsabilità, però ce la metteremo tutta. Tutto. Allora io mi ricordo che un passato Sanremo, voi comunque eravate in gara, lei era super ospite, vi siete incontrati e sono nate queste collaborazioni, queste hit estive meravigliose. Avete però tirato fuori anche, ancora di più, il suo essere travolgente, divertente, quindi proprio diciamo avete cucito un abito musicale per lei e per voi, eh? Beh io penso che comunque ogni artista non ha una sola anima, no? Magari c'è un'anima predominante e poi ce ne sono tante altre non nascoste che però stanno dietro, no? Quindi Alessandra è una persona innanzitutto che ama la vita, è una persona che ha tanta solarità e noi ovviamente che siamo salentini come lei, abbiamo nel vero senso della parola, l'energia e il sole dentro, l'abbiamo portata diciamo un po' nel nostro mondo e lei si è trovata, devo dire, benissimo. E anche noi ci siamo trovati benissimo con lei. Ma che versione sarà? Quella proprio ufficiale che abbiamo sentito o ci sarà una sfumatura diversa? No, dai. Beh queste sono delle chicche che non possiamo dire, ti diciamo che sarà una cosa fatta ad hoc, bella. Si ballerà tanto, dai. C'è anche le prime file, Giovanna, se tutti, tutti i dirigenti devono alzarsi in piedi. Beh speriamo, per forza, questo è un must. Siamo dei tardi. Ragazzi invece dopo Sanremo ci volete dire qualcosa? Si può? Che succede? Qualcosina si può dire, dai. Beh come sempre i Bundabash hanno tanta carne al fuoco, stiamo lavorando, lavoriamo sempre, siamo sempre in studio e sicuramente, come dico sempre, si sentirà a parlare di noi. Vabbè, allora non vediamo l'ora. Tornando invece al festival, voi avete gareggiato, ovviamente Alessandra è il suo primo Sanremo, le avete dato dei consigli e vi ha chiamato prima di partecipare? Ma io penso che sia lei a dover dare dei consigli a noi, nel senso che Alessandra è un artista che ha un peso specifico molto importante, quindi ci ha rassicurato, ci ha dato tanta sicurezza, perché ripeto, il palco di Sanremo è un palco che comunque ti mette sempre alla prova e ci ha dato una mano a sentirci più confidence sul palco, questo sì. A parte la sua canzone, il tifo nei suoi confronti, che cosa vi è piaciuto di quello che avete sentito in questi giorni? Guarda, ti dico che il livello dei pezzi quest'anno, a me non piace mai giudicare gli altri artisti, io penso che un artista non debba mai giudicare, poi i gusti sono gusti, però io penso che quest'anno in generale il livello dei pezzi è un livello alto, anche un gradino più alto rispetto a quello degli altri anni. Ci sono tante belle canzoni, bei testi, begli arrangiamenti, poi soprattutto le performance vocali che noi stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato, sono tutte di livello, quindi complimenti ragazzi. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Hai fatto una domanda perché ognuno di noi poi nelle chat, quando ci vediamo il festival, dice sempre un pezzo diverso, quindi era proprio la domanda diciamo più scomoda, perché ci si chiesto il pezzo più bello per i Bundabash, erano quattro pezzi diversi, perché non siamo mai d'accordo su questo. Vabbè, ne vogliamo dire, perché c'è anche questa curiosità nei vostri confronti, dai. Beh, ovviamente non posso dire... Siamo di parte. Siamo di parte, dai. Oltre quello di Alessandra Poroso, mi piace molto quello di... D'Argento Amico. Guarda me, vabbè, oltre Alessandra ovviamente, mi è piaciuto molto Annalisa, mi è piaciuto molto Gali, e vabbè, Angelina Mango, grandissima performance pure. Guarda, ascoltandoli tutti, io sono ufficialmente fan di Loredana Bertè, perché Loredana Bertè, secondo me è un mito assoluto, ha portato un pezzo adatto, adatto al festival di Sanremo e adatto a lei, quindi io sono fan di Loredana Bertè. Vedi, quattro pezzi diversi, io non sono d'accordo con loro, quindi per me Big Mama, mi è piaciuto tantissimo, e Jolier. Allora, diciamola tutta, sono talmente belli tutti e trenta che veramente era impossibile definirne uno, e chiaramente facendo la cover con Alessandra, poi avete collaborato negli anni con tantissimi in gara, quindi insomma ho capito la difficoltà, ma io sono qua per fare anche questo, eh. Grazie mille allora i Bundabash. Grazie a voi. Grazie.